oddio 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 ok rega bella a tutti visto che c'erano stati problemi di lag nella live ho pensato di riportare questa mod epica The Running Dead come vedete i gold sono diventati degli zombie la mod sembra rippa ambientata poco dopo l'esplosione delle bombe nucleari quindi Boston è proprio piena zeppa di gold e ci rincorreranno tutti quanti quindi prepariamoci al peggio questa è la prima run e partiamo diciamo di superare quest'orda infinita di gold eccoli già su qualcuno è sceso infatti eccoli qua oddio mio sentite il verso dei critker quanto fa paura ok cerchiamo di aggirarli e qui sono milioni ragazzi c'è proprio una marea ora vediamo quanti ci stanno seguendo oh madonna madonna che si fa? quelli qua ci hanno puntato no vabbè non lo so si no vabbè oddio mio via via giusto max oddio vedete il verso dei click quanto fa paura oddio quanti cavolo cosa? oddio ah fuci corri 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 se corro vado un pochettino più veloce riesco un po' a distanziali vedo un cacchio oddio guardate i puntini rossi sotto nella mia mappa ragazzi nella bussola quanti so oh vabbè dai no vabbè li devo colpire in testa perché se non li prendi in testa praticamente non gli fai danni come nei classici film horror oddio oddio quanti cavolo ma vabbè oddio mio un'orda infinita tipo the day is gone proprio qui c'è un fuci oh correggio laser forse un aiuto siamo soli non siamo soli sono due in armatura atomica però ciano maxwell io in realtà sto a bestia con contro la contraternita con l'istituto quindi mi fingo aiutatemi aiutatemi i mox di goal attaccano tutti loro e io mi do oddio mio vabbè una valanga di goal bella raga cavolo poverini mi sa che farete una brutta finita io provo aiutatemi raga ma questa cosa ci salverà e riusciremo a liberarci da questa urda ragazzi la missione di questa prima ranna sarà proprio liberarci da questa urda non lo so oddio mio oddio che culo è scoppiata la macchina l'ho uccisi tipo 40 questa roba via vediamoci come provare a dargli una mano mentre è fatta dove è finito il ricolpio quando è dolore ah con la sinistra oddio la roba dura è distrutta completamente bravo per quanto te cosa fa la giusta dal meccanico c'erano degli incentivi penso quelli degli sconti oddio il gioco questo verso di clicker è terrorizzato mamma mia che paura ma come fai a liberarti mamma mia vicinissimo era questo è riuscito quasi tutto il tempo a tenermeli lontani non lo so se sta via dritta dove vado ma che faccio mi raggiungono esplodi esplodi macchina del cacchio esplodi no vabbè ho solo sta arma mamma mia stava da fuoco devi morire male oddio no oddio no no siamo finiti siamo finiti compagni sto premendo aiuto ma devi uscire di qua per favore io non volevo fare niente qua lo so mi hanno messo in mezzo mi hanno detto l'intercopo assoluti voglio arrivare quindi mi buttate e ti vado a sparare e ti vado a sparare a venire i puttani e allora adesso vi basta brutti finocchi i bastardi eh volete eliminarvi ci vuole tutto l'esercito per eliminarvi io avevo fatto un barco come lo so i schivi no vabbè regà no no vabbè c'ho una difesa che sono una belga ma c'è la buca caramba ammazzo a tutti i schivi vi ammazzo a tutti i figli di puttani e scorda le fottute pareti senza braccia vedi che la ponte ti vediamo bello è liscio comunque c'è non uscisi una marea ma qua ancora continuano fino a non arrivà mio te ne so aggiunghiarti i tre che sono saliti dal fiume cacchio mi si sono rotte le braccia non so con due braccia rotte continuo a scappare una scenda che sono entrata là dentro vabbè ce la potremo ancora fare che si sono infectus gli infectus fanno più danni e sono molto più resistenti quelli verdi sarebbero come i leggendari sono infetti da poco manciamola perché mi sono messo a sparare quello lontanissimo tutti io sparo da tutte le parti mazzo oddio no ancora uno dietro di me dov'è dov'è questo schifo schifo merda è strato là dentro stai ora ti amo quanto fai schifo poniamo fine alle sue sofferenze e via si riuscite a liberare un po' ne abbiamo ammazzati tutti vabbè cerchiamo di pare che non ci hanno visto magicamente ok avviamoci questa casa sembra al sicuro vediamo un po' sembra che non ci sia niente fortuna ok raga sembra che siamo riusciti a liberarci da quell'orda dopo una marea quindi questo video finisce qui scrivetemi nei commenti se volete indicarmi un luogo da raggiungere da questa posizione l'intenzione era di andare a good neighbor se ci riusciamo quindi ci andremo nella prossima nel prossimo video quindi dagli e tutti bella raga da 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 No